Posso dirvi una cosa? A Giuseppe stanno facendo fare tutto quello che non hanno mai fatto fare a me. Il programma televisivo che viene menzionato all'interno di questo video è prodotto e trasmesso da Discovery in real time. Il sottoscritto non fa parte della produzione o del team di realizzazione di questo programma. Tutti i valeri espressi sono di carattere personale e non rappresentano le opinioni ufficiali della produzione o della rete televisiva. Ciao ragazzi e ragazze e ben ritrovati qui sul canale per un nuovo video a tema matrimonio a prima vista Italia. Oggi commentiamo la sesta puntata e devo dire che rispetto alla scorsa settimana ce ne è di canne al fuoco. Perciò mettetevi comodi, pronti a commentare. Ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi alcuni dei miei video, lasciare il like. Insomma ogni interazione per me è importante e serve un pochino a stimolare l'algoritmo di YouTube. Quindi ve ne sono grato. E a proposito di esservene grati, togliamoci così anche l'imbarazzo dello sponsor di questo video che è come sempre Marco Rompietti Video, la mia attività di videomaker, soprattutto specializzato in matrimoni e aziende. Quest'anno avrò tanti matrimoni da fare, mi muoverò in tutto lo stivale, perciò vi invito a contattarmi se siete in prossima di sposarvi o nel 2024 per le ultime date rimanenti oppure ho già aperto l'agenda del 2025. Insomma contattatemi per qualsiasi tipo di informazione su quella che è la mia attività come videomaker matrimonialista ma anche per le aziende e anche per le aziende posso muovermi in tutta Italia, possiamo creare dei progetti ad hoc per far sovraelevare la qualità dei contenuti social e non solo della tua attività commerciale o del tuo progetto personale perché faccio video anche di eventi, di ogni genere, non solo matrimoni, anche attività sportive. Insomma per qualsiasi informazione vi rimando a www.marcolompietti.com Allora ragazzi eccoci nuovamente qui, cercherò di essere rapido ma al tempo stesso incisivo ho aperto il video con una piccola provocazione ma in realtà devo essere sincero con voi la cosa che ho detto riferita a Giuseppe, cioè che a Giuseppe hanno fatto fare tutto quello che l'hanno fatto fare a me non è una critica a Giuseppe, non è neanche una critica alla produzione o meglio potrebbe anche essere una critica costruttiva alla produzione ma è basata su qualcosa di buono noi di Giuseppe in queste prime puntate abbiamo scoperto tante cose abbiamo scoperto che ha scritto il libro, abbiamo scoperto la sua attività sociale, la sua vita i suoi amici, i suoi valori, abbiamo scoperto tanto di lui in questo perché lui è stato molto bravo comunque a tirar fuori tanto di sé ma anche perché gli è stato permesso di poterlo fare e secondo me questo è un punto focale perché se abbiamo visto con attenzione questa puntata dove alla fine ci scappa anche il bacio, dove alla fine anche Ilaria un pochino si lascia andare col marito dopo tanti tentenamenti, secondo me è anche grazie soprattutto al fatto che Ilaria ha potuto vedere non soltanto quindi noi da casa, qual è sia la vera natura di Giuseppe nella vita di tutti i giorni perché ho detto che a me questa cosa non è stata permessa parlando con la mia adorata e ormai amica, ex moglie Ambra lei mi ha sempre detto che tante cose del Marco che ha conosciuto poi dopo il programma non le ha viste nel programma stesso, però non mi è stata data la possibilità di far vedere magari quello che era il mio lavoro al tempo, che è simile a quello di oggi però insomma oggi si è un pochino articolato, quello che era il Marco magari animale da festa con gli amici e invece secondo me è molto importante conoscere un po' di più i personaggi all'interno dell'esperimento ad esempio di Roberto noi non sappiamo niente di questa stagione anche di Fabio stiamo scoprendo poco, però mi auguro che magari via via scorrendo scopriremo qualcosa terrico che ve lo dico a fare perché insomma non c'è molta carne al fuoco però ecco invece in Giuseppe stiamo conoscendo un personaggio che è importante stiamo conoscendo una persona con determinati valori e sono convinto, come ho detto già nel video della settimana scorsa che tutto questo percorso comunque andrà a finire da Giuseppe Ilaria, porterà del bene a Giuseppe però in questo l'invito che voglio fare io invece a chi governa il programma è fateci conoscere di più i personaggi perché per esempio a me seguire le dinamiche di Giuseppe Ilaria in questa puntata mi è piaciuto e mi è piaciuto molto conoscere il mondo di Giuseppe che è stato molto bravo appunto ad aprirsi e alla fine in questa coppia la maestra cede anche al bacio con il suo alunno Giuseppe e questo livello maestra alunno grazie al cielo finalmente si sta un pochino assottigliando e se dovessi farvi un pronostico oggi se questa coppia dirà di sì o no alla scelta non ve lo so dire però ribadisco secondo me questa è la coppia che sta creando il legame più autentico e mi dispiacerebbe sapere se oggi non hanno dei buoni rapporti al di là del matrimonio perché credo che stiano creando i due ragazzi un legame forte ho parlato molto di Giuseppe ma si sta conoscendo anche qualcosa di più del mondo di Ilaria mi è piaciuto anche il fatto che Ilaria stia cercando di smussare le sue spigolature devo dire ragazzi in questa coppia ci ho visto molto del bene aspetto anche i vostri commenti in tal senso abbiamo visto a strozza e bocconi la coppia dei Toscani Enrico e Benedetta allora qui mi sembra un tentativo palese di allungare un brodo che in realtà è bello che è consumato dalla seconda puntata e il punto qui qual è? mi sembra un po' assurdo qui devo spezzare una lancia fuori Benedetta o meglio una lancia contro Enrico tra mille virgolette mi sembra assurdo che Enrico ora dica di voler fare la convivenza dopo che ha vuotato completamente il sacco sulla moglie cioè se tu dici non ho stima di te non mi piaci adesso sto dicendo frasi non mi ricordo a memoria insomma però ha detto delle cose forti giuste non giuste comunque quello che pensa la moglie poi dopo dire andiamo a fare comunque questa convivenza perché la dobbiamo fare? perché è per contratto? o perché comunque va fatta per forza? la trovo una fesseria inaudita e capisco pure dall'altra parte lei con quale stimolo va a fare la convivenza quindi io comprendo in questo Benedetta so che sono un po' bastian contrario perché tutto il mondo del web va contro Benedetta e guardate bene Benedetta come ho detto nei miei precedenti video di cose rivedibili ne ha avuto Benedetta è una di quelle persone con le quali io farei molto Valentina chiacchierata qua su YouTube insieme ma tanto non me la fanno fare probabilmente la farei perché è una persona secondo me che va un pochino fatta aprire va fatta comprendere meglio cosa che nelle puntate non si riesce per niente a fare e vi ripeto Enrico l'ho trovato un pochino incoerente perché cercare una convivenza tanto per non stiamo e questo lo diciamo spesso in questi video non siamo ad amici a prima vista siamo a matrimonio a prima vista perciò se c'è la volontà di provare a gettare le basi per costruire un qualcosa per provarci anche minimamente allora ha un senso se così non è tanto vale ragazzi mollare l'esperimento perché poi comunque battuto a parte non vi obbliga nessuno quindi questo ha poco senso il confronto finale con Favaretto e Nata lo trovo anche un po' stucchevole sapete che a me i modi e il tono che usa Favaretto spesso da superiore da persona che si erge soprattutto i non mi piace non mi fa impazzire loro hanno cercato Favaretto e Nata di scaricare tutta la responsabilità sulla coppia la coppia ne ha di responsabilità ma ne hanno anche loro e nascondere il fatto che sia stato fatto un match senza né capo né coda come vi dissi nei primi video mi sembra che hanno accoppiato due perché sono tutte e due toscani allora era facile geograficamente parlando perché altrimenti non ho visto nessun tipo di punto d'incontro nascondere questo significa nascondere ad essere sotto la sabbia io invece credo che da situazioni come questa da situazioni come abbiamo visto in passato nelle ultime stagioni di matrimonio a prima vista bisognerebbe prendere l'ispirazione per dire forse è il momento che torniamo a fare dei casting un pochino più ragionati e torno a ripetere sarebbe bello che matrimonio a prima vista tornasse a fare una stagione all'anno io questo lo penso una stagione però con dei casting infatti un pochino più in maniera interessante in questo modo se no si bruciano le coppie e si brucia anche un po' la beltà dell'esperimento sociale stesso non so voi che cosa ne pensate manca a dirlo vi aspetto qua sotto allora per quanto riguarda Ilaria e Fabio siamo sempre un po' lì cioè il filone torna sempre lì Ilaria lo fa intendere quando dice che da 1 a 10 al marito da 10 da 1 a 20 quando si sta rattenendo dice che è 20 ma in realtà non si sta rattenendo 20 da quello che vediamo noi Ilaria è completamente slanciata ecco se parlavamo del concetto di farfalle nello stomaco riferito a Stefania la scorsa settimana Ilaria ha miliardi di farfalle che brulicano dentro la pancia però Ilaria non si rende conto delle vere titubanze del marito che lo continua a dire e qui ha detto proprio in questa puntata che non gli piace qualcosa del viso insomma di Ilaria che ci sta ragazzi ripeto ci sta ma il punto rimane sempre lo stesso è giusto dirlo alla moglie? non è giusto? temo che i nodi verranno al pettine temo che la riunione in tal senso potrebbe essere veramente lo spartiacque di questa coppia è stata una puntata senza grande particolare narrazione sì abbiamo visto un pochino di più del mondo se non mi ha derrato di Ilaria che ha lasciato poco spazio al marito in casa però insomma l'ha accolto molto molto bene però li trovo sempre un po' bloccati bloccati tra l'eccessiva euforia di lei e lui che fa sempre questo gioco delle tre carte del tipo sì mi trovo bene con lei però poi nel confessionale dico che a lei a me non piace però davanti a lei dico che sono bloccato per motivi teorici non lo trovo una cosa coerente io credo che Ilaria che dice a un certo punto della puntata che ha imparato a conoscere il marito io credo che Ilaria del marito non ci abbia capito niente ho questa sensazione poi magari mi sbaglio e concludiamo con Stefania e Roberto qui si cerca una reazione che non ci sarà mai o meglio spoiler basta vedere il trailer della prossima puntata la reazione la troveremo nella reunion cosa che spesso successa nella storia del programma di una coppia magari statica durante l'esperimento e poi dopo volano Icocci in reunion e la reunion credo sarà molto interessante e avrò una parentesi dove sono Fabio e Ilaria alla reunion? non sarà che forse tutto il discorso che faccio alla seconda puntata è vero? ne parliamo una settimana prossima di questo però francamente tra Stefania e Roberto non vedo nulla non abbiamo visto nulla del mondo di Stefania non abbiamo visto nulla neanche a parte la casa del mondo di Roberto e se l'unica litigata deve essere quella della camicia dedicata tanto per tirar fuori un argomento beh credo che veramente siamo un po' la frutta di una coppia che non è mai nata che non è mai partita realmente ed è un peccato perché degli aspetti caratteriali sembrano essere molto interessanti da articolare nella fase di Luna di Miele mi è dispiaciuto che in sei puntate non abbiamo più visto per esempio il figlio di Roberto mi è dispiaciuto che non abbiamo visto quella sana e genuina interazione che abbiamo visto anche soprattutto nella coppia di Giuseppe e Ilaria soprattutto l'ado Giuseppe che però ha permesso agli occhi di Ilaria di vedere Giuseppe in maniera diversa ecco mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più del mondo di Roberto che magari permettesse a Stefania di sciogliersi e aprirsi e tutti questi incontri con gli esperti fatti in questo modo secondo me non portano né a destra né a sinistra questo era quello che avevo da dire sulla sesta puntata di Madrimoni a Prima Vista Italia vi invito qua sotto nei commenti a dire la vostra cerco sempre di rispondervi e vi ringrazio come sempre per il supporto che è dato al mio canale e ai miei contenuti noi ci vediamo a settimana prossima perché credo che la puntata Reunion avrà tanto da vivere ciao